In questo video vedremo come spostare un appuntamento. Andiamo sulla nostra agenda, clicchiamo sull'appuntamento che dobbiamo spostare, si apre la nostra schermata, ci posizioniamo qui in alto sulle forbici, andiamo a selezionare la data, prendiamo il caso che la rinvia di un giorno al sabato, clicchiamo su ok, vediamo che nella data del 20 non troveremo più l'appuntamento, ci andiamo a posizionare sul 21 e troveremo l'appuntamento regolarmente spostato.